Te pengega, te gonfia, non t'accide, esce quando è uelenata, arriva all'edizione 2024 della Uespa. Sì, proprio nell'estate è detto lo qual è, lo spirito vero della Uespa, perché io ci tengo a precisare una cosa, che non è che le battute piuttosto petate, cattivelle, eccetera, sono fatte per, ti sa quale motivo, sono spunti di vita quotidiana che raccolgo io, raccolgono anche i miei collaboratori, le mettiamo sulla Uespa che te pengega, nel senso che ti dà una battuta, però questa battuta ti può far gonfiare, ma non t'accide perché non c'è cattiveria, non c'è assolutamente nulla di cattivo nella Uespa. Ecco, il sindaco oggi durante l'inaugurazione ufficiale, insieme a Gigi Nonegli, ha rimarcato che la Uespa è diventata un po' si è istituzionalizzata insieme al Carnevale di Frosinone. Quanti anni ha la Uespa? La Uespa è nata nel 1945, subito dopo la guerra. La faceva un mio parente, Giuseppe Alessio Di Sola, che tra le altre cose è un grandissimo poeta pernacolare. Poi nel 1960 io avevo iniziato da qualche giorno a collaborare con il tempo, ingaggiato dal famoso giornalista Nino D'Amato, chiese a mio padre se gli potevo dare una mano. E dal 1960 io ho iniziato a collaborare con la Uespa, fino al 1976, quando Alessio, in un pomeriggio di quel mese, che non ricordo quando, mi disse, mi chiamava parente, parei, non la fa morire cosa, vuole dire non la fa morire questo giornale. Ed io ho cercato di mantenere fede a questo impegno e la Uespa continua ad uscire regolarmente. Quest'anno mi è costata molta fatica, devo dire, perché ho qualche problemino, ma a parte questo sono soddisfatto anche per la partecipazione straordinaria di gente che è venuta questa sera ad omaggiare non me, perché io, per carità, a omaggiare la Uespa, il simbolo che ha questo giornale. Devo dire che il sindaco è stato veramente tento nel puntualizzare qual è il valore di questo giornale. È un giornale che esce per strappare un sorriso e io spero di esserci riuscito. Anche perché questo giornale inizialmente, magari le persone si arrabbiavano anche un po', diciamo, delle battute, tra virgolette cattiveri, invece oggi si dice che se non stai sulla Vespa non sei nessuno. Sì, e infatti io non posso e non possono pretendere che io possa mettere tutti, sono già 48 pagine, quindi vengono citate centinaia di persone, però qualcuno chiaramente non posso citarlo. Poi c'è anche un ricambio generazionale, c'è un ricambio di foto. Chi è che non è stato citato quest'anno lo sarà sicuramente nella prossima Vespa, a Dio piacente, insomma, del 2025. Però c'è chi si arrabbia, chi fa finta di arrabbiarsi, chi fa finta di compiacersi e c'è chi ci rimane male perché magari non è stato né citato e ne è fotografato. Però io ti posso dire una cosa, ti faccio fare uno scoop, guarda che un buon 10, 15, 20% di foto che vengono pubblicate sulla Vespa sono foto che mandano gli interessati per farle pubblicare, soprattutto di genere femminile perché magari la foto che ho pubblicato l'anno precedente non è piaciuta o non è piaciuta la collocazione nella rubrica in cui lo posizionate. Ecco, e quest'anno la copertina, tanto ormai la possiamo un po' anticipare, tanto siamo in uscita, riguarda il comune di Frosinone e quindi un piccolo attacco, una piccola pengecata al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici sul fatto che questi lavori sono sempre in corso, Frosinone. Lavori in corso, si gira a destra, si gira a sinistra, ma dove bisogna passare, arriva a dove dobbiamo andare. E infatti il titolo della vignetta è, chi ci capisce è bravo. Però voglio dire, il sindaco è chiaro che io, siccome la Vespa tutti gli anni fa una lettera ruperta, una lettera aperta al sindaco di Frosinone, noi cerchiamo di dare dei consigli al sindaco, è inevitabile che facciamo delle critiche sulle cose che non vanno, così come credo che sia giusto e doveroso riconoscere quello che stanno facendo. Perché ci sono anche tante cose che Riccardo Mastrangeli e la sua giunta stanno facendo. Perché sia chiaro un altro fatto, la Vespa con la politica non c'entra niente, la Vespa non indossa nessuna maglietta, né di sinistra né di destra, la Vespa semplicemente è un organo di informazione. Ci informiamo, vediamo e raccontiamo. Così lo fanno gli stessi miei collaboratori, ai quali io non permetto assolutamente di essere pesanti nelle loro battute, eccetera. Perché chiaramente è un giornale che deve essere misurato, equilibrato. Io ti conosco da una vita, mi chiami zio ed è giusto che sia così. Io ho sempre detto che per fare questo mestiere, il nostro, di giornalisti, bisogna avere due qualità. Il coraggio di dire quello che uno veramente pensa e l'onestà, essere onesti con se stessi, di cercare di non indossare nessuna maglietta e non partecipare a nessuna fazione. Nel senso che bisogna essere seri, questo è un mestiere pericoloso, è un mestiere importante, è un mestiere che però va fatto utilizzando soprattutto la testa, avendo però queste due qualità, coraggio e onestà. Quest'anno si ringraziano particolarmente i collaboratori che hanno dato un grande supporto alla Vespa come tutti gli anni, ma insomma quest'anno sono stati ringraziati particolarmente. No, io li ho sempre ringraziati i miei collaboratori perché io non potrei farlo alla Vespa senza le imbeccate di tutti perché oltretutto con l'età che ho non è che partecipo attivamente alla vita sociale, esco poco e quindi di conseguenza mi raccontano, però anche questa è una fatica terribile perché i miei collaboratori scrivono in italiano, non in dialetto e poi tradurre in dialetto l'italiano, è una fatica terribile perché io metto meno tempo a scriverlo direttamente il dialetto e non a tradurlo, però è chiaro che il collaboratore X che frequenta un certo ambiente può essere più aggiornato di me su certe persone. Poi c'è il club, il vecchio club delle lingue source qui da Gigi Noneglia e noi ci divertiamo, ci incontriamo e mentre diciamo male di tutti, di tutti io prendo appunti e poi li trasformo in battute. Voglio dire che i collaboratori sono una cosa molto importante. Dico, non la farei la Vespa senza i collaboratori, anche se questo mi costa molta ma molta fatica. Ebbene, grazie a Amedeo di Sora, a Zio Amedeo e non ci resta che andare in edicola a sfogliare la Vespa anche quest'anno. Auguro a tutti buon divertimento e buona Vespa a tutti.